Dove stai andando, scusa? Eh? Dove stai andando? Sto andando in Val Badia. Ora c'è lì Don Matteo, così da quella macchina lì. Il cantante non può essere ripreso. No. Il cantante non può essere ripreso. Bello, per carità di Dio. Ma per me è sempre ripreso andare ai compleanni. No. Nel senso adesso. Adesso non stiamo andando ai compleanni. Cinque loro, cinque mogli, i figli, fa sempre il compleanno. Essi a chiusa, intanto, travesi. Essi qua. Ho una domanda. La roba ha disimportato la media su con la funivia? Eh sì. Con la funivia. Ma veramente con la funivia? La funivia è il lavoro. Sì, ho capito. Mi fa cambiato solo. Grazie. Grazie per la visione Ma tu manca arrivare Gli date la mano? Se volete No, no Dove siete soprattutto? Eh, come si chiama? Diffuso colal Manamana 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 Chi è Matteo? Eccomi qua Fabio Ciao Ho fatto? Mi sei fatto un buon viaggio? Mi sei spettato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti